Ciao a tutti, ecco la cucciola abbandonata a Tarudente in Marocco. Penso che abbia più o meno tre mesi, così mi ha detto anche il veterinario, dal quale siamo stati stamattina. Eh, 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 non ti devi spostare, se no come faccio a fare la video? No, mi vuole bere il caffè di nuovo! Cacchio, un altro caffè! Beve sempre il caffè! Eh, pensate che l'hanno abbandonata per strada. E mi ha detto il veterinario che questa cucciolina qui è il labrador, è il labrador di razza, così caruccia, così carina, per strada. Ma l'ho trovata che soffriva, c'aveva le lacrime negli occhi, poverina. E adesso l'ho adottata, devo fare tutte le carte così, quando mi sposto io dal Marocco la posso portare con me perché è veramente dolcissima. Come on here, come on here! È simpaticissima, è simpaticissima.